Simone, sembra l'iniziativa prendi, sembra. Non suona, sarà rotto. Eh sì, se non suona vuol dire che è rotto, no? E allora, se è rotto bussa. Bussa! Come cavolo è che a te funziona sempre? Perché a me non deve mai suonare niente? Madonna, ce l'ho pressionato dicendo, calma, calma. Porca puttana maledetta, ci dovevo comunicare una cosa urgente a questo. Io non lo so, ogni volta che ho in mente un piano geniale, non c'è mai l'interesse. Non è in casa questo fracchia? Se questo fracchia non c'è, ce ne andremo. Ah, salve. Mi scusi, signor commissario, ma ero di là, che stavo, insomma, ero di là alla televisione, allora... Scusi, lei, frecchia, ce la disturbiamo a casa, ma le devo comunicare una cosa veramente fondamentale. Possiamo? Prego, prego, venga. Dopo di me. È sicuro che non c'è nessuno qua dentro, posso parlare liberamente? Sì, sì, non ci sono che io. Ah, bene. Sì. Sta molto male? No, sto sbadigliando. Fuma? Hai fumato in vita mia. Beato lei. Caro frecchio, ma lei c'ha proprio tutti i pregi, eh? Dunque, adesso che siamo sicuri che qua dentro non ci sende nessuno, la metterò al correndo di cose top secret, secretissime. Noi della polizia abbiamo fatto delle indagini e abbiamo nelle meni una vera e propria bomba. Sì. Caro frecchio, abbiamo scoperto la mamma della bella umana. Il delinquente assassino, F. Tendone, risulta morbosamente attaccata a questa mamma, tant'è vero che rischia continuamente la galera per venirla a trovare. Siete sicuri? Sicurissimi. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei, devo dire, è molto legata al figlio, al figlio di Putteno, ovviamente. Mi è venuta così. Oh, dunque, la polizia italiana, la polizia, io per la verità, ho avuto come al solito un lambo di genio e ho pensato un piano veramente semblare per catturarlo. La belva? Certamente, e chi se no? Dove posso? Non c'è un... Ma scusi, il tavolo? Sfruttando la sua perfetta somiglianza, diciamo, con la belva umana, io avrei pensato che se se ne va a casa di questa mamma, fingendosi figlio, ovviamente, e la convince ad andare in clinica, a ricoverarsi per farsi delle ricerche e delle analisi. Anche perché io penso, anzi ne sono sicurissimo, che questa è sifilidica dal momento che avrà avuto dei rapporti con dei muli e degli aseni arabi che quelli c'hanno delle... Ma scusi, perché si rifiutano? Non capisco che rischio occorre, lei, scusi. Facciamo pubblicare la notizia sui giornali che la troiaccia, ci volevo dire la puttanazza, è stata ricoverata alla clinica salusvea. La berbe non resiste e va a trovare il bagascione. Così catturiamo il figlio di prostitutazza. Prostitutazza. Basta. Basta.